Nell'altro termine che vado a vedere sempre al dizionario di Giuseppe Guerreiro, c'è pa' idea, la parola che voglio vedere in CURS è intravenimento, che voglio dire avvenimento, e dopo che il dizionario di Guerreiro dice intervenimento, avvenimento. Intrar è anche vocabolo delle arti meccaniche, e vale tendere, stirare, parlandosi di funi o simili, per esempio se trattassi di una manovra laboriosa per la quale occorre fare uso di funi, dicessi talvolta in treque a corda, e vale, stiratela, tendetela, e poi esontarò le mie traduzioni sulla descrizione, quindi se volete vedere com'è che lo tradusesto, comunque lo tradusesto in inglese e in francese intanto. Intravenire è un verbo, già è un verbo transitivo, è l'ora di accadere, quindi è appen, arrivere. Quello che dice il dizionario di Giuseppe Guerreiro dice V, punto, sai il verbo, intravenire o intervenire o intervenire, accadere, e dice se per lo più in malaparte, a far del male interviene quello che non si pensa, chi fa quel che non debbe interviene quel che non crede. Questo è già l'esempio del dizionario di Guerreiro. Adesso non lo tradusesto niente, non lo presentarò con calma. Questo è il do paroi, che appunto una volta si diserà così. Dunca, ci vedremo al prossimo video. Grazie comunit repay. Grazie! Grazie.